amici in diretta dalla bbc siamo a new york vacanze estive non siamo a new york buonasera a tutti gli spettatori di tele di brecassana del nostro comprensorio e tutto il popolo di maracana che ci segue scusate un po l'intermezzi perché abbiamo presse le ferie ora io sto rientrando da miami beach oscala miami beach dunque mister allora devo fare no devo fare subito una domanda perché tanti telespettatori che ci seguono hanno un dubbio come ha preso maestro salandrino le dimissioni di antonio conte per anni cliente del salone in via roma antonio conte è stata una persona che oltre ad avere sempre un trattamento di favore dal barbiere maestro salandrino è anche stato un uomo vicino a maestro salandrino soprattutto negli anni 80 allora l'uomo dal doppio taglio molesto l'uomo dalle basette poco credibili che fine ha fatto dopo tre anni di successi con la juve la provocazione di mister apocato juni e sembro diciamo a livello del mestiere ma prima che non l'ho conosciuto conte l'ho sempre avuto sul quotidiano ma il discorso un altro per conti i conti non sono tornati perché la signora si lascia desiderare un bottiglia ma è sempre stato in questo modo la signora ha sempre risparmiato però conti i conti non tornano e ci ha lasciato calcisticamento bisogna ritrovare ma adesso tutti che ingomiginano e improvvisare a dire cose ma io 102 punti tre scudetti di fila diamo merito ora che se ne è andato lo possiamo dire un bravo allenatore io dico questo uno dei più grandi personaggi della tv italiana era un grande juventino mike buongiorno allegria 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 allegri allegre speriamo che allegri si prendeva a rivincere con il mio perché io quest'anno spero per l'accempio allora li buttiamo quei tre scudetti di quest'anno con una coppa dei campionati ma di portarli o no perché ci avevano sempre rubato da l'interessi p come te non c'è nessuno con tanti scudetti e ci mancano la gente e ora li riva allegra per riavare come te non c'è nessuno viva gatto viva la sandoria viva boiasco